Il Marchese de Fumerol Roger de Tourneville se ne stava in mezzo a un gruppo di amici, a cavalcioni di una sedia, con un sigaro in mano. Ogni tanto aspirava e soffiava una piccola nube di fumo e raccontava. Eravamo a tavola quando venne portata una lettera. «Papà l'aprì. Voi conoscete bene, papà, che crede di fare le veci del re di Francia. Io lo chiamo Don Quixote perché si è battuto per dodici anni contro il mulino a vento della Repubblica, senza sapere bene se lo facesse in nome dei Borboni o in nome degli Orléans. Oggi tiene la lancia soltanto in nome degli Orléans, perché sono rimasti solo loro. In ogni modo, papà, si crede il primo gentiluomo di Francia, il più noto e il più influente, il capo del partito. E siccome è senatore a vita, considera i troni dei re come poco sicuri. Quanto a mamma, lei è l'anima del babbo, l'anima del movimento monarchico e della religione, il braccio destro di Dio in terra e il flagello dei malpensanti. Venne dunque portata una lettera mentre eravamo a tavola. Papà l'aprì, la lesse, poi guardò mamma e le disse «Luo fratello è in punto di morte». Mia madre impallidì. In casa non si parlava mai di mio zio. Io non lo conoscevo affatto. Sapevo solo per sentito dire che aveva condotto e conduceva ancora una vita da disperato. Dopo aver dissipato il patrimonio con un numero infinito di donne, aveva conservato due amanti, con le quali abitava un piccolo appartamento, il Rue de Martyr. Ex pari di Francia e colonnello di cavalleria, si diceva non credesse più né in Dio né nel diavolo, e che dubitando della vita futura, aveva abusato in tutti i modi della vita presente, diventando così la piaga del cuore di mia madre. La mamma disse «Datemi quella lettera a Paul». Quando ebbe finito di leggerla, gliela chiesi a mia volta. «Eccola». «Signor Conte, credo mio dovere informarvi che vostro cognato, il Marchese de Fumerol, sta per morire. Forse voi vorrete prendere delle disposizioni. Per questo non ho tralasciato di avvertirvi. Vostra devotissima Melanie». Papà mormorò «Bisogna pensarci. Nella mia situazione, devo vigilare sugli ultimi momenti di tuo fratello». Mamma rispose «Manderò a cercare l'abate Poavron per chiedergli consiglio. Poi andrò a trovare mio fratello con l'abate e con Rocher. Voi, Paul, restate qui. Non dovete compromettervi. Una donna può fare e deve fare queste cose. Ma per un uomo politico nella vostra posizione, è un'altra cosa. Un avversario avrebbe buon gioco e potrebbe servirsi contro di voi della più lodevole delle vostre azioni». «Hai ragione», disse mio padre. «Fa come vuoi, mia cara». Un quarto d'ora dopo, l'abate Poavron entrava nel salotto e la situazione fu esposta, analizzata, discussa sotto tutti gli aspetti. Se il Marchese de Fumerol, uno dei grandi nomi di Francia, moriva senza i conforti religiosi, certamente sarebbe stato un colpo terribile, per la nobiltà in genere e per il conte di Tourneville in particolare. I liberi pensatori trionferebbero. I cattivi giornali canterebbero vittoria per sei mesi. Il nome di mia madre sarebbe trascinato nel fango e nella cronaca dei giornali socialisti. Quello di mio padre, infangato. Una cosa simile non doveva assolutamente accadere. Perciò fu immediatamente decisa una crociata, guidata dall'abate Poavron, un piccolo prete grasso e pulito, lievemente profumato, un vero vicario della grande chiesa cattolica in un quartiere nobile e ricco. Venne preparata la carrozza. Partimo in tre, mamma, il curato e io, per somministrare a mio zio i santi sacramenti. Era stato deciso che per prima cosa si doveva incontrare la signora Melanie, autrice della lettera, che doveva essere la portinaia o la domestica dello zio. Discesi in esplorazione davanti a una casa di sette piani ed entrai in un andito tetro, dove riuscii a stento a distinguere lo scuro bugigattolo del portinaio. Questi mi squadrò con diffidenza. Domandai, la signora Melanie, per favore. Non la conosco, ma ho ricevuto una sua lettera. Sarà, ma io non la conosco. È forse una puttana? No, probabilmente è una domestica. Mi ha scritto per un posto. Una domestica? Una domestica? Può essere quella del marchese. Andate a vedere. Quinto piano a sinistra. Dal momento che io non domandavo ad una puttana, era diventato più gentile e mi accompagnò fino all'ingresso. Era un uomo grande, magro, con basette bianche, un'aria da sagrestano e gesti maestosi. Salì di corsa a una lunga e sudicia scala a chiocciola, di cui non osavo toccare la ringhiera, e bussai piano tre volte alla porta sinistra del quinto piano. Mi venne subito aperto e mi vidi dinnanzi una donna lercia, enorme, che sbarrava l'entrata con le braccia aperte e appoggiate ai due stipiti. Borbottò. «Cosa volete? Siete voi la signora Melanie?» «Sì, io sono il visconte di Tourneville. Ah, bene, entrate. C'è mia madre giù, con un sacerdote. Ah, bene, andate a prenderli, ma badate al portinaio. Io discesi e tornai sopra con la mamma seguita dall'abate. Mi sembrò di udire dietro di noi altri passi». Appena fummo in cucina, Melanie ci porse delle sedie e sedemmo tutti e quattro per decidere. «È grave?» domandò mia madre. «Ah, sì, signora, non ne ha per molto. E sembra disposto a ricevere la visita ad un prete? Oh, credo di no. Posso vederlo? Ma, sì, signora, soltanto, soltanto, ci sono con lui quelle signorine». «Quali signorine? Ma, ma, le sue buone amiche». Ah, la mamma era diventata tutta rossa. Nabate Puevron aveva abbassato gli occhi. La cosa cominciava a divertirmi e dissi «Se entrassi io per primo, vedrò come mi riceve e potrei forse preparare il suo cuore». La mamma, senza capire l'ironia, rispose «Sì, figlio mio». Ma da qualche parte si aprì una porta e una voce, una voce di donna, chiamò «Melanie». «Melanie». La grossa donna si precipitò e chiese «Ha bisogno di qualcosa, signorina Claire?» «L'omelette, ma subito!» «Fra un minuto, signorina». E tornando verso di noi spiegò «È un omelette al formaggio che m'hanno ordinato per loro due come colazione». E subito ruppe le uova in una zuppiera e si mise a sbatterle con foga. Io uscii sul pianerottolo e tirai il campanello per annunciare ufficialmente il mio arrivo. Melanie mi aprì, mi fece sedere in un'anticamera, andò ad avvertire il mio zio che ero là. Poi tornò pregandomi di entrare. Nabate si nascose dietro la porta per comparire al primo segnale. Rimasi molto sorpreso nel vedere lo zio. Era molto bello, molto solenne, molto chic, quel gran viver. Seduto quasi coricato in una grande poltrona, le gambe avvolte in una coperta, le mani, lunghe mani pallide, appoggiate ai braccioli della sedia, aspettava la morte con una dignità biblica. Una bella barba bianca gli scendeva sul petto, congiungendosi sulle guance ai capelli, pure tutti bianchi. In piedi, dietro la poltrona, come per difenderlo contro di me, due donne giovani, due donne negre a sottelle, mi guardavano con lo sguardo provocante delle ragazze di strada. In sottana e in vestaglia, a braccia nude, i capelli neri scarmigliati, ai piedi pantofole orientali, a freggi d'oro che mostravano la caviglia e le calze di seta. Parevano, accanto a quel moribondo, due figure immorali, in un quadro simbolico. Fra la poltrona e il letto, un tavolino ricoperto da una tovaglia, con due piatti, due bicchieri, due forchette e due coltelli, aspettava l'omletta al formaggio, ordinata allora a Melani. Mia zio disse con voce debole, ansante ma chiara, buongiorno, figlio mio, sei venuto a trovarmi troppo tardi. La nostra conoscenza non sarà lunga. Io balbettavo, caro zio, non è colpa mia. No, rispose, lo so, è più colpa di tuo padre e di tua madre che tua. E loro come stanno? Non male, grazie. Appena hanno saputo che eravate ammalato, mi hanno mandato a chiedere vostre notizie. Ah, perché non sono venuti loro? Alzai gli occhi sulle due ragazze e risposi dolcemente. Non è colpa loro se non sono potuti venire, caro zio. Sarà difficile per mio padre e impossibile per mia madre entrare qui. Il vecchio non rispose nulla ma alzò la sua mano verso di me. Presi quella mano pallida e fredda e la tenne fra le mie. Si aprì la porta. Entrò Melanie con l'omblet e la posò sulla tavola. Subito le due donne sedettero davanti ai loro piatti e si misero a mangiare senza distogliere gli occhi da me. Caro zio, dissi, sarebbe una gran gioia per mia madre potervi abbracciare. Anch'io vorrei mormorò poi tacque. Io non trovai nulla da proporgli e non sudiva più che il tintinnio delle forchette sulla porcellana e quel vago movimento delle bocche che masticavano. A questo punto l'abate che ascoltava dietro la porta vedendo il nostro imbarazzo e credendo vinta la partita giudicò giunto il momento di intervenire e si fece vedere. Lo zio fu talmente sbalordito da quell'apparizione che rimase dapprima immobile. Poi spalancò la bocca come se volesse divorare il prete e gridò con voce forte profonda furiosa cosa venite a fare qui? Nabate abituato alle situazioni difficili continuò a venire avanti mormorando io vengo in nome di vostra sorella signor marchese è lei che mi manda sarebbe tanto felice signor marchese ma il marchese non ascoltava alzando una mano indicò la porta con un gesto tragico e superbo ed esclamò pieno di collera ansimando uscite di qui uscite di qui ladro d'anime uscite di qui violatore di coscienze uscite di qui scassinatore di porte dei moribondi Nabate indietreggiava e anch'io indietreggiai verso la porta battendo in ritirata le due donne vendicate si erano alzate lasciando la loro omletta a metà e si erano poste ai due lati della poltrone di mio zio posando le mani sulle sue braccia per calmarlo per proteggerlo contro le imprese delittuose della famiglia e della religione Nabate ed io raggiungemmo mia madre in cucina e Melani ci fece accomodare di nuovo sulle sedie lo sapevo che non sarebbe andata liscia disse la donna bisogna trovare qualche altro sistema altrimenti ci sfuggirà e si tornò a decidere la mamma era ad un parere l'abate ed un altro io ne avevo un terzo discutevamo a bassa voce forse da mezz'ora quando un gran fracasso di mobili smossi e grida di mio zio ancora più terribili e vehementi di quelle di prima ci fecero balzare in piedi tutti e quattro udivamo attraverso le porte e le pareti fuori fuori mascalzoni farabutti fuori celtroni fuori 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 melanissi precipitò poi tornò subito per chiamarmi in aiuto accorsi di fronte a mio zio che gridava fuori di sé per la collera quasi in piedi stavano due uomini l'uno dietro all'altro come se aspettassero che morisse di rabbia dal lungo pastrano ridicolo dalle lunghe scarpe inglesi dall'aspetto di precettore disoccupato dal collo ritto e dalla cravatta bianca dai capelli incollati dalla figura umile di falso prete di una religione bastarda io riconobbi subito il primo per un pastore protestante l'altro era il portinaio della casa che appartenendo al culto riformato si aveva seguiti ed era corso a cercare il suo prete nella speranza di miglior sorte lo zio sembrava pazzo di rabbia se la visita del prete cattolico del prete dei suoi antenati aveva irritato il marchese de Fumerol diventato libero pensatore la visita del ministro del suo portinaio lo faceva uscire addirittura dai gangheri io presi per il braccio i due uomini e li spinsi fuori così bruscamente che due volte di seguito si abbracciarono con violenza passando dalle porte che conducevano alla scala poi mi ecclissai anch'io e tornai in cucina nostro quartier generale per consigliarmi con mia madre e con l'abate ma me la nì sconvolta rientrò gemendo muore muore venite presto sta morendo mia madre accorse lo zio era caduto per terra lungo disteso sul pavimento e non si muoveva più credo anzi che fosse già morto mamma fu splendida in quel momento andò dritta verso le due ragazze inginocchiate accanto al corpo che stavano tentando di sollevare e mostrando la porta con un'autorità una dignità una maestà irresistibile disse tocca a voi uscire adesso ed esse uscirono senza protestare senza dire una parola bisogna aggiungere che io mi preparavo a cacciarli via con la stessa vivacità che avevo usato col pastore e col portinaio allora l'abate Poivron somministrò a mio zio i sacramenti con tutte le preghiere d'uso e lo assolse dei suoi peccati mamma si inghozzava inginocchiata dinnanzi a suo fratello improvvisamente gridò ma riconosciuta ma stretto la mano sono sicura che mi ha riconosciuta e che mi ha ringraziata oh mio dio che consolazione povera mamma se avesse compreso o indovinato a chi o a che cosa quei ringraziamenti erano diretti lo zio venne adagiato sul letto questa volta era proprio morto signora disse Melanie non abbiamo lenzuola per seppellirlo tutta la biancheria appartiene a quelle signorine io guardai l'omblet che le due ragazze non avevano finito di mangiare e avevo voglia di piangere e ridere nello stesso tempo ci sono situazioni curiose e sensazioni davvero strane talvolta nella vita abbiamo fatto a mio zio dei magnifici funerali con cinque discorsi sulla sua tomba il senatore barone di Croassell ha dimostrato in termini mirabili che dio ritorna sempre vittorioso nelle anime nobili che si sono smarrite da qualche tempo tutti i membri del partito monarchico e cattolico seguivano il feretro con entusiasmo da trionfatori parlando di quella bella morte dopo una vita un po' agitata e il visconte e Roger tacque attorno a lui ridevano qualcuno disse bah ecco la storia di tutte le conversioni in extremis